Etica, bioetica e deontologia medica diventano corso di studi della Scuola di Medicina e Chirurgia, protocollo d'intesa tra la Federico II di Napoli e l'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Napoli-Provincia. Un'intesa tra la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presieduta da Maria Triassi, e l'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Napoli-Provincia, presieduto da Bruno Zuccarelli. e quindi porterà all'istituzione di uno specifico percorso formativo pre-post-laurea sui doveri della professione, alla luce dei principi dell'etica e della deontologia. Il piano degli studi di corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatri e Prodesidentaria, nonché delle scuole di specializzazione di entrambe le aree, si arricchirà dunque di un insegnamento di etica, bioetica e deontologia medica, inserito anche in forma mutuata, in un corso integrato comprendente la medicina legale. responsabile scientifico del protocollo d'intesa per la Federico II è il professor Massimo Niola, direttore della scuola di specializzazione in medicina legale, oltre che direttore della sezione dipartimentale in medicina legale della Federico II. L'accordo che intercorso tra l'Ordine dei Medici e l'Università degli Studi di Napoli-Federico II è molto importante sotto l'aspetto della formazione dei nuovi medici, è estremamente importante soprattutto per lo sviluppo tecnologico che sta avendo negli ultimi tempi la medicina, in particolar modo con lo sviluppo di quello che possa essere la cosiddetta intelligenza artificiale, ponendo l'accento sugli aspetti etici, deontologici e comportamentali, quindi riprendere un po' quello che questa tecnologia ha lasciato sempre più andare indietro e cioè il rapporto che si deve instaurare tra il medico ed il paziente e soprattutto dedicando quello spazio necessario per la comunicazione che è estremamente importante, appunto tale che recentemente la giurisprudenza è intervenuto normando che il tempo della comunicazione è diventato a pieno titolo tempo di cura.